Fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 si vota per i ballottaggi in 67 comuni, 9 i capologhi di provincia, Reggio Calabria, Matera, Lecco, Crotone, Chieti, Andrea, Arezzo, Aosta e Bolzano. In Sicilia inoltre primo turno delle amministrative in 60 comuni. Il decreto agosto arriva domani all'esame dell'Aula del Senato.